Paolo Del Debbio intervista al Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. A dopo. Eccoci. Scuso, darò un po' di spalle e un po' no. Buon pomeriggio Ministro Urso. Grazie. A me non dispiace che il Ministro Giorgetti si sia prolungato perché credo che sia importante quello che lui abbia detto. Tra noi c'è piena collaborazione anche su questo. Lo dico anche perché dovrebbe accadere anche tra i giornalisti. Allora, il Ministro Adolfo Urso lo conoscete, Ministro delle Imprese e del Made in Italy. e parto dall'attualità, attualità al massimo. Oggi Tavares di Stellantis ha detto, ha annunciato, che la commercializzazione di auto cinesi in Europa e anche in Italia, non la produzione, la Francia ha fatto un accordo con la Cina di grande importanza, sempre per le Mac Mini car cinesi della Lip Motor con Stellantis, accordi su Airbus, EDF, L'Oreal, Suez, eccetera. Come la vede lei, Ministro, questa storia? Ma io credo che l'Unione Europea dovrà muoversi necessariamente su una politica industriale assertiva che investa sulle imprese come stanno facendo gli Stati Uniti, 3.000 miliardi di dollari in pochi mesi sul sistema produttivo americano. Lo stesso dovrà fare l'Europa. Draghi nel suo rapporto sulla competitività ha dato qualche misura di quello che dovrà accadere. Lui parla di almeno 500 miliardi di euro l'anno, ogni anno, per i prossimi dieci anni. L'Europa dovrà investire sulla produzione e quindi sul lavoro in Europa. E' la nostra indicazione per la prossima Commissione Europea, che dovrà basarsi su risorse comuni, sul modello di quando è stato fatto col PNRR, su risorse comuni, perché soltanto attraverso risorse comuni si potrà investire in maniera così ingente come è necessaria sul sistema produttivo europeo senza creare ulteriori divari tra chi può e chi non può. E nel contempo politica industriale, politica finanziaria, politica commerciale. Oggi gli Stati Uniti hanno annunciato dazzi pari al 100% sulle auto elettriche cinesi, oltre che altri dazzi su prodotti siderurgici, su tecnologia green, pannelli solari ed altri ancora. E' inevitabile che l'Europa dovrà anch'essa tutelare la produzione nazionale rispetto a fenomeni di concorrenza sereale che potranno muovere da altri continenti, anche perché, lo diceva prima anche il Ministro Giorgetti, più gli Stati Uniti investono sul sistema interno, sull'industria, sugli investimenti nel proprio continente, più alzano le barriere ai prodotti cinesi, più è inevitabile che la sovrapproduzione cinese si diriga nei confronti dell'Europa. E quindi noi dobbiamo tutelare il lavoro e la produzione europea e investire sul lavoro e sulla produzione europea. Senza minissorso. Per quanto riguarda le affermazioni Tavares, conferma le nostre analisi. E' assolutamente necessario che in Italia ci sia almeno un secondo produttore automobilistico, in Francia ce ne sono quattro, in Germania, Spagna, Polonia, Ungaria, parliamo di quattro, cinque, sei, sette diverse case automobilistiche che producono, in Italia ce n'è solo una. Che tra l'altro intende importare e vendere nella propria rete auto elettriche o comunque auto cinesi. e allora meglio che sia uno prodotto in Italia. Cioè non è pare una contraddizione assoluta, cioè francamente. Questi chiedono i soldi per andare avanti, in più importano le euro tra la Cina. Cioè mi sembra un po' un cortocircuito, non dico del ministro, ma dell'azienda. Io mi auguro che abbiano nel loro piano di internazionalizzazione con questo accordo con il partner cinese per vendere in Europa le auto cinesi abbiano tenuto conto di quale sarà la prossima politica industriale europea che noi determineremo con gli altri partner. C'è una politica che tenda a tutelare la produzione europea e quindi la produzione nazionale. Mi auguro che ne abbiano tenuto conto. E così come mi auguro che ci siano quegli investimenti nel nostro paese a volte ad aumentare la produzione di veicoli in Italia come Tavaresi ci ha assicurato più volte per giungere a produrre almeno un milione di veicoli e comunque sarebbero insufficienti per il mercato interno. Questo comunque e sarà necessario che altre case automobilistiche vengono a produrre nel nostro paese per il mercato europeo anche per l'esportazione fuori dal continente europeo. Ci stiamo lavorando. Senato Ministro lei sta lavorando perché l'enorme potenziale che noi abbiamo in Italia che è il risparmio privato per il quale superiamo anche altri paesi europei molti altri paesi europei lei sta lavorando a degli strumenti che possano collegare queste risorse verso le necessità delle attività produttive magari incentivando gli imprenditori a investire nelle proprie aziende. Perché? Qual è la logica di tutto questo? e a che punto è? Noi stiamo concentrando le nostre risorse per sostenere chi voglia investire in Italia e ci auguriamo innanzitutto gli imprenditori italiani chi voglia investire in Italia nella tecnologia green nella tecnologia digitale che sono a fondamento della duplice transizione ambientale e digitale quindi per chi voglia realizzare nel nostro paese impianti di produzione fotovoltaica eolica batterie elettriche e quant'altro ancora piuttosto che chip semiconduttori microelettronica su queste e per questo abbiamo da una parte realizzato il piano transizione 5.0 che entrerà in vigore tra poche settimane ma tutti gli investimenti che sono realizzati al primo gennaio 2024 potranno essere contabilizzati sull'innovazione dell'impresa nel campo della tecnologia digitale e sull'efficientamento energetico attraverso tecnologia green ai fini dell'autoconsumo industriale tra risorse nazionali 6,4 milioni di euro e risorse europee 6,6 miliardi di euro siamo a non montare di 13 miliardi di euro sul fronte dell'innovazione tecnologica delle nostre imprese dall'altra parte questo vale anche per chi voglia realizzare tecnologia green e impianti microelettronici di microelettronica nel nostro paese attraverso i contratti di sviluppo infatti gli effetti si cominciano a vedere perché per quanto riguarda la microelettronica già alcune multinazionali come Silicon Box hanno annunciato di voler investire nel nostro paese ed altre verosimente lo faranno nelle prossime settimane insomma noi investiamo le nostre risorse a supporto di chi voglia realizzare produzione e quindi anche occupazione nel nostro paese tanto più nei settori particolarmente innovativi come quello della microelettronica e della tecnologia green nel contempo abbiamo ripreso in mano quello che era il più grande impianto siderurgico europeo cioè l'ECSI ILVA che insieme agli altri poli siderurgici che stiamo contribuendo a sviluppare potrebbero rappresentare quella base necessaria su cui ogni industria manufattoriera e ogni paese industriale deve basarci cioè sulla produzione siderurgica nazionale a che punto siamo lì sull'ILVA era una domanda che le volevo fare i commissari stanno avviando tutte le opere necessarie a cominciare dalla manutenzione per la ripresa produttiva perché quando sono giunti in azienda era rimasto in attività un solo alto forno l'alto forno 4 peraltro a ritmo ridotto perché non era stata fatta sufficiente manutenzione gli altri due alto forni che hanno consegnato alla gestione di Acere d'Italia e quindi a Mittal erano stati nel frattempo chiusi con la giustificazione che occorreva fare delle opere di manutenzione mai realizzate e quindi non più riaperti anche l'alto forno 4 aveva 4 giorni di autonomia quindi siamo riusciti a intervenire con l'amministra sì praticamente si stava avviando la chiusura e siamo riusciti a intervenire diciamo in tempo per salvare l'alto forno 4 e ora sono state attivate tutte le misure per fare la manutenzione degli altri due alto forni e di tutti gli impianti collaterali che necessitano anch'essi di significative opere di manutenzione per riprendere a produrre questo avverrà ovviamente la ripresa produttiva e il rilancio produttivo nei prossimi mesi e nel frattempo già nei prossimi giorni alcune multinazionali del settore siderurgico visiteranno gli impianti per vedere per capire se il loro interesse già manifesto si possa concretizzare con delle proposte che valuteremo innanzitutto sul piano industriale per il rilancio produttivo della siderurgia italiana a partire ovviamente dal sito strategico di Taranto e dalle sue diramazioni nel Liguria e in Piamonte ma anche negli altri siti siderurgici su cui stiamo lavorando Terni Piombino è significativo l'interesse di due diverse multinazionali con cui abbiamo firmato delle Moiu per i loro investimenti a Piombino Metinveste da una parte Ginda dall'altra in coesistenza così come sulle acerie del nord che sono le più amanti nella transizione ecologica perché sono quelle più spinte verso l'economia circolare la sidurgia è la base di ogni industria monofatturiera la sidurgia e la chimica su cui stiamo lavorando nel tavo della chimica e con le imprese perché stiamo riaffermando la vocazione industriale del nostro paese in un quadro geopolitico che è profondamente cambiato le misure di Biden lo indicano in maniera chiarissima chiaro che siamo in un altro mondo sulla questione della chimica sono interessato a capire cosa state muovendo sulla sidurgia ma è chiaro anche sulla chimica per esempio sono stato recentemente a Ravenna a Ferrara per quello che è uno dei poli chimici più importanti del paese che è avanti sulla strada dell'economia circolare ma questo vale anche per gli altri poli chimici mi riferisco per esempio a quelli della Sicilia noi stiamo lavorando affinché siano sostenibili sul piano ambientale perché vogliamo fare la chimica verde in Italia così come la sidurgia verde in Italia ed essere polo tecnologicamente avanzato verso l'economia sostenibile lo possiamo fare noi siamo i più bravi in Europa sull'economia circolare e per questo abbiamo tutelato nel dossier sul packaging tutto quello che era stato fatto nel riciclo che era così importante e significativo proprio nel nostro paese e per questo stiamo lavorando insieme al ministro Picchetto al decreto legge sulle materie prime critiche che sarà la prima legge nazionale realizzata in Europa in sintonia con il regolamento europeo sulle materie prime critiche laddove si sviluppa sia la lavorazione delle materie prime critiche e anche l'estrazione nel nostro continente quindi nel nostro paese sia l'obiettivo dell'economia circolare nelle materie prime critiche laddove noi possiamo dire molto come impresa italiana insomma una politica strategica sul piano industriale nazionale che però deve essere in sintonia sulla politica strategica europea ne parlavo prima sull'automotive ma posso parlare della stessa cosa nel campo della tecnologia green o della microelettronica noi sappiamo che la politica industriale si fa solo anche con il concorso dell'Europa che indica la strada da percorrere le regole per esempio di natura ambientale ma anche le regole di natura commerciale sì tra l'altro voglio dire la Cina che fa cose di vario tipo è nell'organizzazione mondiale del commercio quindi comunque non è un membro esterno quindi voglio dire dovrebbe no rispettare le regole e forse a livello europeo ci vorrebbero strumenti più più cogenti per far rispettare queste regole ora si va all'elezione europea mi scusi un attimo se faccio una piccolo inciso si va all'elezione europea fra un mese d'accordo la commissione fino ad ora dal punto di vista complessivo insomma su certi temi è stata assente lei sente che c'è vento di cambiamento su questo discorso europeo cioè su pensa che una nuova commissione possa andare di più nelle direzioni che lei ora mi ha detto guarda ne abbiamo parlato in un confronto aperto che abbiamo avuto recentemente a Parigi insieme al collega Lemaire ministro dell'economia dell'industria francese insieme al collega Abeck vice cancelliere tedesco e ministro dell'industria in Germania nella trilaterale Italia-Francia-Germania che abbiamo istituito un anno fa a Berlino si è riunita prima a Berlino poi a Roma appunto a Parigi sulla competitività europea e in quella sede abbiamo convenuto sulla necessità che l'Europa deve necessariamente sviluppare una politica industriale assertiva sorretta da una politica finanziaria adeguata e con una politica commerciale tesa a tutelare la produzione europea da chi realizza prodotti fuori dell'Europa senza rispettare gli stessi standard ambientali e sociali questo varrà per il settore delle auto come per la tecnologia green e per quella digitale io sono convinto che il prossimo Parlamento europeo che sarà determinato dalla libera decisione di cittadini europei la prossima Commissione europea necessariamente dovrà andare su questa strada seguendo e raccogliendo la sfida degli Stati Uniti per contrastare le genomonia della Cina con una visione che nei confronti della Cina deve essere neutrale io posso dare il nostro governo come le sa è uscito dall'accordo della Via della Seta ma non per questo si sono ridotti l'interscambio commerciale con la Cina anzi posso dirlo anzi mentre lo scorso anno si è ridotto il deficit commerciale il disavanzo commerciale con la Cina si è ridotto in maniera significativa le do qualche dato che credo che sia importante che il deficit commerciale nel 2022 cioè la differenza tra quello che importavamo e quello che esportavamo era pari a 41,4 miliardi a vantaggio della Cina nel 2023 questo divario si è ridotto notevolmente a 28,4 miliardi quindi si è ridotto il divario tra l'importazione dei prodotti cinesi e le nostre esportazioni in Cina abbiamo saputo fare meglio nell'anno del governo Meloni che negli anni dei governi della Via della Seta questo è molto sicuro nel contempo nella prima parte di quest'anno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno si è incrementato l'interscambio dell'1% mentre si riduceva l'interscambio di tutti gli altri paesi europei il che vuol dire che avendo messo nella direzione giusta priorità alla produzione e all'esportazione e in una partnership di DoQDES con la Cina come deve essere stiamo sulla via del riequilibrio e io penso che questa deve valere anche per quanto riguarda gli investimenti cinesi nel nostro paese noi siamo aperti a chi investe nel nostro paese per produrre in Italia non per assemblare in Italia lo dico anche alla luce di alcune agenzie di oggi noi favoriremo la produzione in Italia che secondo noi debba essere fatto con le componenti italiane a fine di raggiungere un'autonomia strategica in Europa e noi in qualche misura favoriremo chi produrrà in Italia non chi verrà qui per assemblare prodotti e componenti realizzati in altri continenti o per favorire la vendita di prodotti realizzati in altri continenti questa politica non appartiene a un governo che guarda le imprese al lavoro certo un'ultima domanda Ministro Urso poi la lascio ai suoi impegni allora la sua visione dell'evoluzione del sistema produttivo in una visione diciamo pluriannuale insomma non domattina o l'anno prossimo o quello dopo ancora in questa visione sua il manifatturiero la farà ancora da leone oppure no assolutamente sì ovviamente utilizzando appieno le nuove tecnologie l'intelligenza artificiale l'altro giorno con il Ministro Giorgetti e il Ministro Berlinda abbiamo inaugurato la fondazione per l'intelligenza artificiale per le tecnologie abilitanti per l'industria italiana a Torino noi investiamo nell'innovazione come nel piano transizione 5.0 quindi attraverso l'innovazione il Made in Italy può crescere nel mondo e sta crescendo nel mondo perché questo è quello che sorprende i nostri osservatori negli anni della crisi le esportazioni italiane sono aumentate notevolmente nel mondo cogliendo le potenzialità dei nuovi mercati meglio di quando abbiano fatto le imprese e le altre nazioni europee per questo lo scorso anno abbiamo scavalcato la Corea del Sud come quinto paese esportatore cioè le imprese italiane sono più agili più capaci più flessibili più innovative molto spesso tali da cogliere le novità e da collocarsi laddove il mercato cresce con i prodotti che crescono queste capacità di internazionalizzazione e di innovazione ecco per noi l'impresa è l'impresa che sa internazionalizzarsi e che sa innovarsi e noi stiamo investendo su questo nella consapevolezza che in Italia possa nascere la tecnologia green quella fotovoltaica di Tristan dell'Enel al Catania certamente sì così come nel campo dell'industria eolica o delle altre forme energetiche rinnovabili la tecnologia digitale noi pensiamo quest'anno di avere almeno 10 miliardi di investimenti nel campo della tecnologia chip nella microelettronica pensiamo che attraverso lo sviluppo della tecnologia green della tecnologia digitale e al rilancio delle fondamenti dell'industria manufatturiera che la siderurgia e la chimica si possa costruire il futuro di un'impresa e di una nazione industriale come certamente può e deve essere l'Italia soprattutto all'interno di un asset geopolitico profondamente cambiato e che in Europa deve puntare l'autonomia strategica per garantire lo sviluppo e la libertà dei cittadini e dei popoli europei questo lo devono comprendere anche coloro che si attardano in una visione del passato quello che conviene produrre laddove costa meno e portare poi nei nostri continenti questa è una visione del passato lo dimostrano le scelte del governo dell'amministrazione americana e le scelte che già stanno pensando di realizzare i governi e la stessa commissione europea la visione del passato è quella di chi produce laddove costa meno per importare e soddisfare i consumi dei continenti del nostro continente e del continente americano questa è una visione del passato e chi si attarde in questa visione non ha capito nulla di dove si sta dirigendo la produzione e l'impresa anche l'impresa e la produzione europea Ministro Ursula ringrazio molto per il tempo che ci ha dato e le auguro buon lavoro grazie a voi arrivederci arrivederci